wrestling it luca del rial dringaldi francesco hunter cacciatore ciao francesco luca lo sai dietro di te cos'è quella quel quadro che sopra di te lo vogliamo dire così dia un po erudiamo un po i nostri aspettatori della battaglia di waterloo fantastico fantastico allora oggi una bella giornata finalmente io voglio iniziare con un saluto a una nostra amica salutiamo teresa la salutiamo che ha lasciato il lavoro per un attimo chi fosse ciao teresa ciao non ci mancherai oddio se arrivano boris johnson e gov ci mancherà anche teresa in realtà quindi vabbè è un riferimento all'addio dell'ex premier ma ancora premier in realtà inglese teresa may ma d'altronde come dicono gli inglesi oggi è il primo giugno oggi per chi vede june is the end of may quindi giugno è la fine di maggio comunque salutiamo teresa non abbiamo salutato gigino per adesso siamo diventati podcast politica piano piano ci spostiamo capito allora abbiamo tanto di cui parlare scusami volevo solamente dare un paio di appuntamenti perché allora settimana settimana prossima non andremo in onda di sabato giusto giusto ma andremo in onda tra lunedì e martedì con una live su youtube lo scriveremo sui nostri social per commentare takeover scusami ma sto morendo quindi andremo in onda lunedì o martedì per su youtube in una live per commentare takeover non andremo in onda sabato bensì andremo in onda il lunedì dopo perché saremo live con danny wrestling per commentare super showdown che molto probabilmente non vedremo infatti vogliamo dire non andiamo in onda per protesta contro super showdown per sciopero no in realtà non andiamo in onda perché di super showdown ce ne frega nulla al di fuori di undertaker contro goldberg tra l'altro togliamoci subito un tema hai visto che undertaker sarà a ro e goldberg a smackdown mentre io tossisco perché sto per morire no non l'ho visto vabbè un ordinario amministrazione vogliono promuovere il batch ci sta sì 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 è promozionale anche perché a ro sono si sono riabbassati i i rating ma era un memorial day quindi il memorial day non è storicamente un giorno favorevole per gli ascolti televisivi la gente preferisce fare un barbecue o uscire visto che in inghilterra è festa una delle poche in america è festa una delle poche feste nazionali che ci sono allora io voglio prima di cominciare a parlare dell'argomento chiave che è l'intervista di john moxley con wrestling it no con talk is jericho il podcast medico di chris jericho che dall'altro ti segnalo questa settimana è al numero 3 dei podcast più ascoltati in america e l'episodio in particolare con john moxley per l'appunto ha dato questi grandissimi eh grandissimi risultati al podcast insomma una cosa enorme prima di cominciare a parlare di questo volevo dire che in settimana sono stato alla presentazione del libro di michele posa storia di wrestling e devo dire la verità che incontrare michele posa al di fuori del contesto e televisivo e di youtube in cui ricordiamo lui è legato da un contratto praticamente indirettamente con la wwe e quindi nel suo parlare commentare deve seguire un certo modo eh insomma molto cartunesco e anche su youtube le sue opinioni sono un po' frenate perché non può parlare di all elite wrestling eccetera eccetera dal vivo confermo quello che già pensavo michele posa è un enciclopedia del wrestling è stato veramente grandioso ascoltarlo perché ha una cultura enorme io non capisco la gente che critica michele posa eh soprattutto gente molto meno qualificata perché è veramente un pozzo di cultura ci si può solo imparare ascoltando da lui poi uno il personaggio può piacere o meno però è veramente grandioso con la sua conoscenza ha parlato del di cosa succederà su sky se la wwe sarà rinnovata e lui chiaramente non ha informazioni bisognerà vedere visto che i ascolti sono bassi non su cielo dove sono alti bensì proprio su sky a pagamento sono alti sono bassi bisognerà capire la wwe cosa farà se manterrà i stessi prezzi o se farà in stile wcw cioè sarà molto leggera nel vendere il prodotto l'importante perché quello che voleva fare la wcw era stare sul territorio a prescindere da quanto guadagniamo tu cosa ne pensi francesco penso che questo poi si inserisce forse nel discorso che faremo dopo del fatto che il prodotto wwe perde consensi a livello di ascolti attenzione non so questo non ne abbiamo mai parlato però non è solo in america è anche nel resto del mondo è un aspetto che ovviamente non non viene approfondito perché è un aspetto complicato non ne sappiamo niente che contratti ha in che paese eccetera eccetera questa cosa che ha detto posa è molto interessante vediamo anche in prospettiva all elite come arriva l'all elite assolutamente anche perché ricordiamo che l'all elite ha in settimana contattato la televisione principale canadese non mi ricordo come si chiama quindi si sta andando ad approcciare non solo al regno unito il canada che hanno sempre detto essere il terzo paese subito dopo ci sarà il messico quindi sull'europa ricordiamo che oltre inghilterra il wrestling è molto forte in germania vediamo cosa succederà molto interessante vediamo vediamo e l'ultima cosa che a dea di cui abbiamo parlato con posa e ho fatto moltissime domande è stata il fatto che il wrestling purtroppo non è adeguato ai tempi attuali lui dice la gente tre ore di ro in cui succede poco le digerisce meno rispetto a un game of thrones magari non l'ultima stagione però le stagioni precedenti in cui in 45 minuti succediamo due miliardi e mezzo di cose e il pubblico è più o meno lo stesso tu lo sai che sei insomma un grande fan di game of thrones la serie la tua serie preferita quindi insomma si è parlato anche di questo ma parliamo di cose serie cosa ha detto francesco john moxley ex dean ambrose a chris jericho a parto io allora ok allora è stata un'intervista a prescindere molto bella che io consiglio a tutti di andare a sentire non perché chris jericho mi paga purtroppo allora ci sono alcune considerazioni da fare è una intervista sicuramente prima di tutto l'hanno fatta il giorno prima di double ornate ok è un'intervista che è stata secondo me preparata molto bene tavolino specialmente da john moxley ex dean ambrose non so perché la non so se l'ha fatto perché ci teneva che uscisse fuori un certo modo o perché sono cose che si tiene dentro talmente tanto tempo che ha proprio detto le devo dire tutte per bene tra l'altro insomma spazia anche molto cronologicamente quindi però si capisce all'inizio che non c'è quasi niente di improvvisato tra l'altro parla praticamente solo lui per tutto l'intervista altro se hai fatto caso jericho a volte si sente in lontananza magari si era alzato per fare qualcosa si sente che vabbè si che poi va a salutare renei si allora quindi detto ciò io sono prima di dire che cosa ha detto lo diremo insieme io sono estremamente d'accordo con i contenuti in sintesi soprattutto in generale in sintesi lui fa una critica enorme al creative sistema al sistema creativo della wwe dice proprio direttamente rivolgione se vince perché fa schifo dice che gliel'ha detto per sei anni che fa schifo dopo anche alla fine alla fine quando se n'è andato dopo diremo perché poi e quindi io su questo noi non possiamo essere d'accordo perché ne parliamo da mesi io e te ne parliamo da anni e lo dicono tutti i wrestler in uscita della wwe che propongono idee che vengono bocciate o come ha detto ambrose ci sono questi writer quindi questi quelli che scrivono i promo quelli che scrivono lo show che si presentano con 50 idee abominevoli che poi ogni cambiamento deve sempre passare per vince quindi una macchina lenta è una macchina che non ascolta nemmeno i wrestler la critica fondamentale sulla quale si accoda anche gerico è quella che c'è troppo micromanagement cioè micromanagement diciamo dall'italiana ovvero ogni singola cosa è gestita ci sono gli scrittori che sono ti hanno già scritto quello che devi dire poi ci sono quelli che ti spiegano come lo devi dire i producer che ti spiegano cosa devi fare nel match quindi diciamo sotto questo punto di vista è condicito una grande macchina in cui vince mccann si preoccupa più della sicurezza quindi non prendersi rischi su niente che della creatività però secondo l'opinione di quelli che parlano questo ha creato un sistema che non è non solo è complesso ma non è neanche produce non produce neanche delle cose positive ora questo aspetto approfondiremo però l'altro aspetto è diciamo l'aspetto personale no di moxley effettivamente parla della sua esperienza su questo io non sono schierato al cento per cento con lui perché secondo me si dipinge troppo come una vittima di questo sistema e insomma ignora un po il fatto che alla fine non c'è solo lui in ww dice lui dice sempre no io per sei anni mi sono visto proporre queste schifezze in mani ho sempre detto che non mi piacevano ho sempre avuto a cambiarle non le hanno cambiate quindi io andavo là a fare quello che mi dicevano perché era il mio lavoro lo facevo in modo migliore possibile però mi faceva schifo sono diventato depresso infatti anche gerico ha parlato di una sua depressione no sì 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 quando si parla della carne che appunto di quelle bistecche ma poi in realtà non le fonte vabbè è molto bello sentire le storie personali e drammatiche intermezzate dalle pubblicità che ovviamente gerico si aggancia a qualsiasi cosa anche la più seria pur di pubblicizzare il dentifricio da regalare spazzolino automatico fantastico quindi c'è un po troppo vittimismo perché alla fine è caro john ci sono altri 50 superstar in wwe che a molti loro riescono ad avere successo tra cui il tuo amico set ok magari riescono ad avere tra quello che dicono ma il punto di moxie non è che lui non aveva successo ma che non gli davano la libertà creativa che voleva però secondo me il punto problema di fatto è che quello è un sistema tu vai là come un dipendente di quel sistema va bene dire non mi piace perché ci sta però secondo me è sbagliato dire personalizzare troppo la cosa renderti un po troppo importante all'interno del sistema cioè ovviamente è stato lì sei anni se ne poteva andare prima poteva dirle prima queste cose tutto quello che vuoi quindi sono d'accordo diciamo sulla parte generale sulla critica generale non sono tanto d'accordo sul modo in cui lui la personalizza ponendosi molto come una vittima dicendo che tutte le cose gli dicevano di dire erano stupide ma caro mio se il personaggio che ti sei voluto anche creare tu è quello poi vabbè comunque voglio sentire la tua invece allora sicuramente il problema che c'è in WWE è il processo creativo lo ha detto moxie l'ha detto perfect 10 lo ha detto ryback lo ha detto cody quando se ne andò quando parlava di stardust mi ha detto gerico mi ha detto gerico mi ha detto tutti è indubbio che qui la WWE nel momento in cui è diventata pg non ha saputo gestire la cosa perché perché vince mcmahon la tv pg la sapeva la sapeva fare nell'ottanta e infatti fino al 94 95 ti dava cose ridicole quindi il pompiere il pompiere forse l'unico che non c'era comunque il insomma quello che fa il monezzaio il clown sì sì cose molto molto stupide però nel momento in cui si è dovuta trovare a fare di nuovo dopo il periodo dell'attitudera che non era pg ma era addirittura a volte vedata ai meno 18 anni è andata in panico perché mi fermo un secondo intanto tengo aperto perché si sta scaricando il computer un attimo oggi sono un po' sfortunato eccomi qui rieccomi allora dicevo perché perché quando si torna a fare tv pg il mondo è cambiato il mondo non è più quello che andava presso al clown andava presso al dentista e andava dietro a eh l'eroe americano che batte l'irac e quindi che cosa fa vince continua ritorna a fare quello che faceva prima john cena eroe americano rusev bulgaro che diventa l'eroe russo è fuori tempo non ha senso e soprattutto vince toglie la libertà di al microfono ai wrestler perché non si fida perché i wrestler ora diciamoci la verità fra non sono tutti i dinambros che effettivamente è uno che si vede che è un creativo è vero è verissimo o sono delle capre o qual era il cosa hanno reso grande i promo degli anni ottanti la cocaina indubbiamente detto da tutti non lo dico io e chiaramente delle persone che aveva personalità che oggi non potrebbero esistere cioè per tu per diventare al cogan devi avere un'esaltazione di te stesso tale che oggi è impossibile ma come fa al cogan nel processo contro goker che era quel sito di informazione che aveva eh pubblicato il suo video erotico ero hard eh sì lui parla di sé dicendo al giudice al cogan ha un organo genitale maschile di 40 centimetri terence bollea no e quella diceva ma cosa stai dicendo ovviamente hogan era nel percè vive il personaggio diventa un personaggio macho man diventa ultimate warrior si è cambiato il nome sì è pazzo ok no no ma tu hai perfettamente ragione quindi per me la radice di tutti i mali è il ritorno all'era eh pg e non saper più fare quella roba lì tu hai detto una cosa molto interessante tra l'altro colleghiamoci noi all'intervista di Ambrose che racconta per un moltissimo quell'episodio di lui quando Vinci dice che deve dire che il pubblico puzza che c'è stato tutto un periodo in cui in cui il suo personaggio deve essere basato sul fatto che il pubblico puzzava quindi doveva andare con la mascherina poi con la tuta con la tuta anti radiazioni poi eh doveva farsi le siringhe di di anti rabbica e lui giustamente dice che erano cose ridicole che non eh gli davano vera hit perché alla fine sono bambinate non portavano avanti nessuna storia e non mandavano neanche over nessun nessun baby face però la cosa interessante è la reazione di Vince che invece quando lui gli andava a dire diceva no questa è una cosa fantastica in questo modo il pubblico si incazza con te si incazza quindi c'è sicuramente quello che tu dici che Vince McMahon non ha capito la creatività e il pubblico del pg nell'era duemila duemila dodici in poi mettiamola così Vince McMahon come molti lavoratori di una certa età ha un distaccamento con la realtà cioè ha ancora la sua realtà perché ha fatto la fortuna con quella realtà lì però c'è anche un altro elemento secondo me che pure loro ne parlano molto che è quello della macchina cioè lui ha creato questa macchina enorme attorno a se stesso però non è una macchina efficiente quindi effettivamente si si perde in tutti questi passaggi che loro ne parlano in continuazione che uno deve fare per arrivare a un punto cioè diranno si è talmente frustrato perché arrivava a fine giornata dopo essere stato appunto in televisione che non è che se tu vai a fare il rondo non è che dura tre ore la tua giornata ne dura ventitri no? sì sì in cui dice alla fine abbiamo passato una giornata a io che devo cazziare il writer dobbiamo riscrivere quello che ha scritto bisogna mandarlo a Vince McMahon poi deve tornare da Vince McMahon cioè quindi passava una giornata intera senza che avevano risolto niente quindi secondo me c'è c'è il problema McMahon che ormai secondo me se dobbiamo prendere per vero quello che stiamo sentendo è palese che il problema è lui tra l'altro Triple Age sia anche egli molto molto frustrato di tutta questa situazione non andrà mai all'elite wrestling quindi abbandonate subito la fantasia e poi c'è il problema appunto di questa macchina che lui ha creato secondo me per necessità perché la WWE è una multinazionale cioè aveva anche bisogno di creare questi meccanismi che però adesso sono sono controproduttivi quindi ci sono questi due elementi c'è un punto su cui abbiamo discusso che è il punto sul Roman Reigns sul fatto che durante il feudo contro Rollins Vince voleva che Ambrose facesse dei riferimenti alla malattia da cui usciva Roman e lui diceva io questo non lo posso fare però la prima volta lo fa lo fa e loro parlano sempre del Vince McMahon Jedi Mind Trick cioè il fatto quando doveva parlare con lui in qualche modo te lo dice guarda che ha senso che le sue minchiate hanno un senso e infatti la prima volta lo dice poi una seconda volta invece quando il Vince lo ripropone lui dice proprio assolutamente no anche qui io non sono d'accordo al 100% neanche io perché lui dice poi nel momento in cui che tra l'altro era un promo live nel momento in cui mi sono uscito dalla bocca con le parole ho pensato che cazzo sto dicendo ma amico caro è un po' tardi per secondo me cioè se non lo volevi dire non lo dicevi basta non c'è nessun modo in cui uno ti può convincere che parlare del cancro del tuo miglior amico sia una cosa giusta ma faccio una domanda però Francesco una delle grandi accuse che si fa da WWE in questo momento è che è lo distante della realtà durante l'attitudiera Vince McMahon ha fatto partorire a una signora di 80 anni una mano una mano quella mano era Mark Henry Vince McMahon nel 98 fa suicidare Hulk dei Legion of Doom per prendendo esempio dalla sua storyline cioè la sua vita reale in cui era depresso e in cui aveva tentato il suicidio scusami un secondo parliamo dell'incesto storyline dell'incesto nella sua famiglia Katie Vick quindi la storyline tra Triple Age che fa sesso con il cadavere dell'ex finge di si travesse da Kane e fa finta di fa cioè voglio dire cos'era un genio prima cioè se tu sei se tu vuoi più realismo vuoi storyline più crude fa schifo ma forse questa cosa qui la devi dire chiaramente è decontestualizzata se dopo dici fickle 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 che ha senso perché è bravo chi lo fa ma fondamentalmente anche quella è abbastanza forse il personaggio di Daniel Bryan ha una vena di realismo perché comunque è è appoggiato al mondo reale il fatto del vegano l'ambiente ci sta più che altro non ha senso no ti do più la mente ragione io critico un po' il fatto che lui secondo me si vede che ne esce un po' falso quando dice sta cosa non lo volevo dire però mi ha convinto secondo me si è parato molto il culo in questa intervista poi Francesco un'altra cosa scusami ma tu non puoi dire che sono stati sei anni di merda passatemi il termine perché tu sei stato a detta di tutti non mia e tua nel trio nella cosa migliore che c'è stata negli ultimi anni lo Shield secondo noi no però tu eri parte dello Shield quindi come fai a dire una cosa del genere tra l'altro infatti sì io credo che lui abbia sbagliato nel non separare bene la sua frustrazione creativa dalla situazione generale che ha vissuto che è stata comunque una situazione di successo personale ed economico che è una cosa che lui dice però lo dice all'inizio e poi cioè comunque sei milionario perché guadagnavi molti soldi hai una bella calo lui lo dice io vivo con poco a me non mi servono i soldi di Brock Lesnar perché non so cosa farci però comunque sei stato in un act che ha avuto molto successo tra l'altro io non so adesso da Beverly quanto sia stata contenta di pushare fino all'ultimo secondo lo Shield perché praticamente ha fatto un assist all'all elite perché uno dei membri dello Shield era poi quello che è entrato è molto divertente sentire il suo racconto di quest'ultimo periodo dopo che lui aveva detto che se ne andava che non voleva rinnovare non ha manco guardato il contratto che gli hanno offerto e vabbè gli hanno detto non ti preoccupare tutto a posto e il giorno dopo gli dice quello adesso arriva Naya Jax e ti picchia anche lì secondo me sei un po' ipocrita perché non puoi dire no io sono andato incazzatissimo nell'ufficio di Vince McMahon a dire ma com'è possibile averte detto che non mi avreste buried solo perché me ne andavo però sono stato contento che sia stata Naya perché la rispetto è il 2019 è giusto bla 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 ma secondo te Vince McMahon dopo che tu sei stato nello Shield e gli dici che te ne vai ma non ti fa una merda è ovvio sono conseguenze che devi accettare e poi non puoi dire che sei contento di aver fatto sta cosa e poi sei incazzato dall'altra parte e poi è carino anche il fatto che lui racconta che per quella specie di paper per il più evento finale dello Shield che gli hanno chiesto di fare perché era già in programma perché gli ha dato 500 dollari che è la paga minima che danno tipo le comparse quelle cose là fantastico questo è un mito va beh adesso Moxley è in all elite è molto non solo l'elite andrà anche ha comunque vari non ha vincoli non è esclusivo l'elite insomma vediamo cosa combina sicuramente come disse in passato Ambrose è un grande what if quindi cosa sarebbe potuto essere se fosse gestito meglio perché a un certo punto era molto over però comunque è stato campione del mondo lui dice che il suo andare over è stato non voluto dalla compagnia cioè anche lì forse si esalta è stata un po' una cosa che ha fatto lui è un po' una reazione del pubblico dice poi quando subito dopo che c'era stata la separazione dallo Shield cioè poi quando hanno visto che cominciava a vendere il merchandising allora hanno detto ah questo c'ha qualcosa ma nelle parole sue nelle loro intenzioni lui doveva durare un paio di mesi dopo la fine dello Shield Vince non ha mai visto Ambrose come un qualcosa di grosso ma ci può pure stare perché non è proprio non incarna quello che può piacere a Vince in tutto questo fa una piccola una piccola frecciata Stone Cold dove dice qui molta gente mi ha chiesto ma perché voi nuova generazione non alzate la voce perché forse avete avuto il lavoro lui dice a me non me ne fregava niente io alzavo la voce questo si rifà alla domanda che gli fece Austin però dice lui non serve a niente perché poi dopo che passi appunto una settimana a dire sì no sì no se poi alla fine quando devi andare in onda non è cambiato niente quello è il capo e tu fai quello che dice lui ultima cosa in tutto sto casino chi è che ci resta fregato Issy Tree perché appunto nel match con Ambrose Hill e Issy Tree sulla carta Face subito dopo il comunicato stampo che diceva che Ambrose avrebbe appunto lasciato la federazione il pubblico va dietro Ambrose invece che dietro Issy Tree Vince si arrabbia e dà la colpa Issy Tree fantastico che poi ovviamente non è colpa sua perché se tu fai un comunicato stampa di uno che se ne va il giorno dopo gli fai fare un match contro uno che in teoria è appena arrivato quindi tu vuoi lanciare lo fai perdere in due minuti dice giustamente Ambrose il pubblico non è stupido capisce che lo fai apposta per punirmi e quindi ovviamente mi viene dietro e il povero Issy Tree ci rimane male secondo me sono interessanti Luca le prospettive future adesso perché ragioniamo un po' cioè noi finora siamo sempre stati quelli che hanno detto va bene molto bella questa All Elite Wrestling però manteniamo la calma la WWE non la tocca a nessuno è vero su questo penso non possiamo non possiamo come dire smentirci anche perché prima pensavo che fra i grandi asset della WWE c'è l'archivio cioè ragazzi fra se fra 20 anni la All Elite Wrestling sarà la federazione che è più importante nel mondo ma voi vedete un match di Alcoman dell'89 sempre dalla WWE dovete passare o un match di Seth Rollins nel 2018 sempre dalla WWE dovete passare però secondo me cambiano molte cose ora perché tutti questi talenti frustrati su questo punto pure voglio dire una cosa adesso anziché come è successo finora accettare più soldi per rimanere frustrati alla WWE iniziano a dire sai che ci sta di nuovo io me ne vado e questa cosa preoccupa molto secondo me Vince McMahon che come ha detto anche Moxley è uno che vuole avere il controllo di tutto e vuole avere soprattutto l'idea che lui può comprare chiunque questa cosa quando gli tiri i soldi in faccia secondo me tu che dici questo è complicato cosa succederà dopo Francesco perché l'Olelite ha dimostrato di avere un buon sistema di produzione quindi un bel insomma un bel parco già pronto grandi accordi televisivi i soldi i talenti tra l'altro a All Out tutti hanno visto che sul che si farà a Chicago sul poster ci sono le quattro stelline di CM Punk io penso che alla fine CM Punk ci vada anche per fare uno sfregio a Vince e a Triple H con cui ha fatto causa perché io quando sono andato a sentire Posa la gente ancora chiedeva ma tornerà mai in WWE forse tra 20 anni quando Vince non ci sarà più eccetera forse anche tra i polegi ci sarà più ma anche CM Punk c'era 40 anni quindi però io lo vedo andare lì quindi in realtà adesso può diventare quello che è che è stato un po' la WCW cioè dire guarda io qua mi sono rotto le palle di stare qui c'è quest'altra cosa magari mi danno due milioni in meno magari non vado a SPN o su come sia Good Morning America il giorno dopo Wrestling Mania mamma sti cazzi quindi adesso bisogna capire quanto i wrestler saranno impegnati negli show settimanali dell'All Elite e questo fatto che siano liberi io non vedo secondo me a un certo punto devi diventare esclusivo a me non piace questa cosa posso andare ovunque guarda secondo me puoi avere delle partnership ti ricordo che anche la WWF negli anni 80 ce l'aveva con le federazioni in Giappone secondo me aggiunge un layer un livello in più anche interessante alle tue storyline alle tue cose certo però devi il 90% 99% deve essere tu il wrestler cioè se tu hai una programmazione come dicono loro già fatta per un anno e vuoi che Luca sia un personaggio prominente per un anno perché se tu hai la programmazione per un anno e non sai che la Dragon Gate ti fa problemi da far perdere PAC suo campione contro Hangman Page questo è stato un autogol dell'Olelite Wrestling noi lo abbiamo detto siamo stati gli unici perché noi diciamo le verità scomode però il concetto insomma il concetto che hai detto tu dell'esclusiva a un certo punto ci deve stare però ricordiamoci che poi dovrebbero cambiare le condizioni contrattuali perché non penso che faranno come Vince che sono in esclusiva però sono no 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 sono dipendenti più che altro è interessante capire chi ci andrà perché se ci vanno solo quelli che in WWE non vengono utilizzati non ha senso diventa l'ex DNA se ci vanno quelli che effettivamente hanno una spinta creativa che non riescono a concretizzare e questa spinta creativa viene come si dice valorizzata allora si può creare un bel prodotto no questa è l'ultima cosa che volevo dire il problema della WWE è che non sono riusciti a trovare un equilibrio perché come dicevi tu non tutti i wrestlers sono The Rock e Stone Cold no ci sono quelli che effettivamente possono solo fare il compitino però se tu sei una compagnia che dimestire e gestisce dei talenti devi anche capire quale di questi perché come dice Ambrose fare il wrestler non è fare l'attore basta cioè che leggi un copione vuol dire anche essere creativo e allora tu questa cosa devi imparare a valorizzarla perché se uno ha delle idee buone per il proprio personaggio e soprattutto per i promo per quelle cose là non è che gli puoi dire no tu devi solo leggere le cose e ti dico io ma allo stesso tempo non puoi manco dirgli fai il cazzo che ti pare come facevano quelli in ambicità quindi devono trovare un equilibrio il problema è che l'All Elite per quelli che fanno il compitino che chiamiamoli low carder in questo momento all'inizio della card di un preview della WWE hai comunque Samoa Joe contro Ray Mysterio in All Elite al momento hai Kip Sabian contro Samy Guevara che chi sono? sono tutti esperti di wrestling sono diventati ma chi sono? comunque io è difficile io penso è molto difficile gestire una compagnia di wrestling perché da un lato non sei un studio cinematografico non sei un produttore cinematografico devi solo dire oh fai questa cosa e fai quella dall'altro devi anche gestire come se gestissi una serie televisiva no? ce l'ho fatto in Faragone prima se l'attore viene e ti dice senti io ho questa bella idea per il personaggio che secondo me deve andare in questa direzione tu gli puoi anche dire eh vediamo di che si tratta però la direzione dello show però la parte che magari fa cagare però la direzione dello show è quella che dai tu quindi devi avere anche le idee chiare dove stai andando cosa la WWE non ha la WWE che lunedì tramite quella tremenda idea della sedia elettrica fa nominare perché non penso che Samy Zian si vada a prendere questa libertà di nominare l'All Elite Wrestling questo 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 passaggio sparisce dai canali YouTube penso che sia sparito anche quando quando mettendo sul network non ci sarà più per me è un grande autogol perché non sono l'idea di Russo di Vince Russo che ha fatto una provocazione ragazzi ha detto che ha detto Vince Russo o o l'Elite e WWE stanno lavorando insieme o Vince è impazzito a nominare la concorrenza in live tv e io gli do ragione a Vince Russo io che so cosa ha fatto Vince Russo do ragione perché perché la WWE nel 97 non nominava la WCW perché lo fa nel 2019 è un autogol infatti infatti dopo lo cancelli ma un autogol specialmente non sai cosa puoi fare il giorno dopo allora se tu dici questi mi vogliono sfidare e io mo li nomino tutti i giorni però gli faccio vedere che questa è la mia strategia perché porta a qualcosa non ha senso che li nomini oggi e il giorno dopo dici dici ah ti puoi saltare in buona idea sì sì chiaro che non c'è una linea io personalmente voglio parlare un attimo di Raw perché io voglio salvare tre cose dall'ultimo Raw te lo dico tranquillamente il titolo 24-7 sì il match Cesaro contro Ricochet che è indescrivibile io mamma mia che incontro è Brock Lesnar con il Money in the Bank fantastico fantastico quella cosa dello stereo ragazzi se criticate Brock Lesnar che fa il cretino allora mi dovete spiegare perché negli ultimi anni l'avete criticato Brock Lesnar campione che era criticabile perché non faceva niente adesso che fa una cosa lo criticate però decidete e poi scusate un secondo nel 2004 nel feud tra Brock Lesnar e Eddie Guerrero Brock Lesnar entra a SmackDown con i mariaci messicani che suonano lui entra col sombrero ballando all'epoca era un genio e adesso è un cretino no no questa è ipocrisia io vorrei vedere è un Lesnar contento sì sì che si vede che si sta divertendo ha senso che non sappia che cosa ci sia scritto sul Money in the Bank è bellissimo è la cosa giusta è il suo personaggio non se ne frega niente pensava che fosse un giocattolo quella cosa quindi come al solito pensiamo di essere lontani come li chiama Mark Mark giusto è questo il termine che tutti dicono ma gli smart gli smart giusto mamma mia ragazzi bisogna un attimo pensare Brock Lesnar negli ultimi anni andava con una faccia appesa a Raw con sto titolo sulle spalle senza voglia due Raw che gira con 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 Eman sul divano che si leggono il concetto per me è bellissimo più di questo more of this infatti 24x7 per questo è bello noi che abbiamo visto l'attitudera e abbiamo visto il titolo hardcore 24x7 ci siamo sempre divertiti a vedere questo meno a vedere gli acrobati tanto mi sono ricordato la volta scorsa quando parlavi delle cose pazze che facevano il titolo hardcore 24x7 a un certo punto c'è un pile driver fatto in una stalla vicinissima a un cavallo che avrebbe potuto dare un calcio in testa crash holly e forse per rifare non lo so e ucciderli questa era l'attitudera ragazzi sì quindi voglio dire insomma ricordiamoci sempre a dove veniamo e cosa ci piaceva prima per andare a giudicare pare pare caro Francesco l'ho letto su Twitter però poi in realtà sto cercando adesso e non trovo pare che Meltzer abbia dato 5 stelle al match tra Dustin e Dustin e no sì tra Dustin e Cody a Double or Nothing che per me è un match a 5 stelle ma se questo è un match a 5 stelle Gargano contro Cole non è un match a 5 stelle infatti lui è andato a 6 6 no 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 perché quello non è wrestling perché Lucia Bros che sono forti contro come si chiamano quei due col codino e con le basette i due trapezisti la banda basso la banda bassotti non è un incontro di wrestling in America se poi andiamo insieme andiamo in Messico a Guadalajara in una palestra distrutta e ci vediamo il wrestling lì ha senso ma si dovrebbero mettere delle maschere perché quella è la Lucia Libre non è il wrestling faccio come un mio ex docente di teatro come mi diceva l'etica la lirica e la prosa sono cose diverse ecco Lucia Libre Pro Wrestling e Circo sono cose diverse impazzito possiamo dire che SmackDown ha fatto schifo invece fa schifo fa schifo altamente schifo però hanno rovinato l'unico prodotto decente che ci aveva dato la WDB negli ultimi anni SmackDown Live Wild Card è praticamente un annullare il draft e la separazione dei brand perché non c'è nessuno di SmackDown a SmackDown però vogliamo congratularci anche con Mandy Rose che è finita anche sulle copertine di una rivista un tempo si finiva finivano su Playboy adesso su quelli fitness quello che è sì 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 infatti quando ho visto con sta cosa che giravo ho detto ma mi sono perso qualcosa invece no comunque andiamo avanti perché domenica cioè domani per chi ci ascolta c'è TakeOver c'è TakeOver guarda ti leggo in maniera molto velocemente la card vai cui c'è c'è il match per il titolo un ladder match per il titolo vacante di coppia NXT ricordiamo che gli ex campioni gli ex War Raiders sono scomparsi sono scomparsi scomparsi totalmente sì dove sono come sono scomparsi anche i campioni di coppia di Raw dove sono assurdo vabbè mamma mia comunque c'è ci sono i Street Profits Undisputed Era Forgotten Sons e Ony Lorcan e Danny Burch sarà un grande match anche se a me i Forgotten Sons non mi piacciono senti ma in questo contesto hanno senso perché ci vogliono vedi vedi NXT questi quattro tag team sono tutti diversi sì ognuno di questi ha uno stile diverso poi può piacere può non piacere però sono quattro cose diverse vero vero e comunque beh non facciamo pronostici perché alla fine può vincere chiunque Matt Riddle contro Roderick Strong questo era un bel match questo era un bel match anche se Roderick Strong io lo vedo finito cioè se sale se sale adesso è finito vabbè Luca ma mi dici uno che se sale adesso non è finito Velvet in Dream ah pensi tu perché wishful thinking caro mio no no Velvet in Dream io penso che c'è solo un problema per Vince in Velvet in Dream ma vedi ma poi finisce come Elias Luca diventa un act e Elias ha vinto il primo titolo da quando era grandissimo Elias diventerà diventerà un act anche lui non lo so non lo so non lo so non lo so comunque poi c'è Shaina Baszler contro Yoshirai Yoshirai allora io penso che qui vinca ancora la Baszler però la divisione femminile di Rose Smackdown sente tantissimo la mancanza di Ronda Rousey sì perché e non perché come dice la gente perché il Ro è stato sempre costruito attorno a lei perché era brava era brava quando uno è bravo si deve dire che è bravo quando uno è scemo si deve dire che è scemo è vero che è stato anche però l'unico programma di successo della WWE nell'ultimo anno beh c'è Becky Lynch però in questo momento analizziamo infatti ho detto programma ah perché non era programma Becky Lynch è una persona che ha avuto successo da sola nella WWE però analizziamo un attimo la situazione femminile i titoli di coppia femminili non hanno mai difeso il titolo hanno sempre perso quindi dimenticato ripeto non è una cosa che a me dispiace ma devono vincere però se poi al pay per view non le fai lottare che senso esatto perché che il campione il perde sempre quando non conta è una tradizione che nel wrestling va avanti dagli anni 60 però effettivamente poi quando conta devi vincere invece deve lottare poi c'hai lì quella lì che è tornata all'asilo Sasha Banks è tornata a fare le scuole dell'obbligo dalla base però sta mettendo queste foto ultimamente di se stesso è anche twittato continua vabbè ma giusto quando vai a scuola hai poco da fare ti ricordi quando andavamo a scuola al liceo che non avevamo niente da fare il pomeriggio e anche lei va a scuola lei sta alle medie e niente tanto arrivano messaggi di lavoro faci minatori minatori dove sei comunque dicevamo sono in pausa pranzo per la cronaca dicevamo scusa quella sta in vacanza Bayley come campionessa insomma non la fanno vedere dove sta ha fatto sì sta facendo questi incontri contro Charlotte Lacey Evans non è pronta non è ancora pronta alla fine parliamo cambiano i nomi ma la sostanza è quella che abbiamo detto all'inizio la direzione creativa io sono convinto che se oggi arrivassero The Rock e Stone Cold in WWE non sarebbero The Rock e Stone Cold perché sarebbero intrappolati in questo sistema e tu vuoi che Bayley ne esca fuori no non ne può uscire fuori però hai le Kabuki Warriors che hanno fatto la fine delle botte a muro si diceva quando eravamo giovani noi cioè sono scomparse dove sono dove che fanno cosa fanno nella vita ma se tu hai il titolo di coppia femminile e non lo usi è normale che i tag team femminili scompaiono tra l'altro Carrie Sane cioè che è libera se è libera non ha niente da fare Francesco pure non ha niente da fare domani una sera birra ve la potete andare a pigliare un grande appello a tutte le fan femminili di Wrestling It se siete single ragazze scrivetemi questo uso privatistico del mezzo pubblico comunque andiamo avanti andiamo avanti Velvet in Dream contro il rientrante Tyler Breeze questo sarà pure un bel match perché sono entrambi ma ci vuole creativi vanitosi e creativi e secondo me io sono un grandissimo fan di Velvet in Dream Seth Rollins dovrebbe imparare da Velvet in Dream il carisma questa parola che sembra quasi una parolaccia per il titolo ci sarà Cole contro Gargano ricordiamo che Cole due la seconda volta ricordiamo che Cole ha detto che al termine di questo overview tutta Landis Piutidira avrà un titolo sarà uscita vincente e in più Kevin Owens ha tweetato una foto in cui è con Landis Piutidira è lui diciamo il leader di questo è un montaggio più che altro è interessante vedere a questo punto questo match perché non hanno messo nessuna stipulazione speciale una cosa insensata perché se tu fai lo stesso main event ovvero per via l'altro le hanno inventate apposta santo Dio le stipulazioni speciali metticela come farà il suo match per essere diverso da quello di prima con tanti kick out ma è uguale cacci in testa e tanta felicità per Danny Wrestling comunque chiudiamo con una domanda perché abbiamo ricevuto una domanda Stefano Saturno che è di Licusati vicino Marina di Camerota io ho lavorato in Cilento adesso ovviamente eccola qua la domanda eccola qui allora volevo chiedervi cosa ne pensate di Jack Gallagher ho sentito Luca che sarei io che segue poco e niente 205 Live ma ho visto dei suoi incontri a mio parere adesso però adesso lui è in NXT UK a mio parere è molto sottovalutato è molto tecnico chiaramente mai a livelli del secondo connazionale Zack Sabre Jr non pensate che gestione a parte a parte la gestione che ha ricevuto può soffrire molto di più di quanto fatto finora sì era uno dei miei preferiti anche lui lo vedemmo se ti ricordi in Inghilterra dal vivo prima che arrivassi in WWE mi è sempre piaciuto tantissimo lui ha un grande carisma ha un grande carisma è molto tecnico ho fatto un paragone giusto con Zack Sabre Jr ha un background di MMA a lui si vede però ha uno stile ha uno stile unico che è una cosa che per un presser è fondamentale in più ha come dicevi tu quella capacità di portare un certo brio un certo carisma anche sul ring no? ovviamente però se sei alto un metro e settanta sei inglese vai in WWE ti mettono al tuo Five Live con l'ombrello a fare pericolo purtroppo non è colpa sua no non è colpa sua infatti a NXT UK è un'altra cosa tra l'altro NXT UK sta mettendo su degli show fantastici adesso in programma un 3 contro 3 tra il nostro italiano Fabian Eichner e qui si scateneranno in tanti la Barthes come quell'altro Fabian Barthes che lo chiama in realtà era il portiere della Francia quindi non penso sia lui e Walter contro Pete Dunn Mustache Mountain e Mustache Mountain quindi Trent Seven che saluto e Tyler 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 Breeze e Tyler Tyler Bay Tyler Bay comunque beh grandissimo io guarda Jack Gallagher mi piace anche a me è molto interessante però ha già risposto Francesco se vai in WWE se è inglese ti mettono l'ombrello fai il pagliaccio in stile Mary Poppins si fanno le risate dietro le quinte Vince Kevin Dunn e la cricca di quelli rimasti alla sua schiera e Triple Age si strappa i capelli la barba forse non va ad allenarsi una sera come penitenza ok ok allora allora ricordiamo così si stressano non allenandosi allora ricordiamo ci vediamo o lunedì o martedì lo scriveremo sui social live su YouTube per commentare NXT Takeover che vedrò questa volta incredibilmente ma io non è che non lo vedo perché non ho tempo poi ci non ci rivedremo sabato prossimo perché abbiamo degli impegni lavorativi e non ma ci rivedremo lunedì dopo quindi vi dico anche il numero il numero è lunedì 10 10 10 10 giugno con Danny Freaking Wrestling per parlare di Super Showdown se lui parlerà e noi rideremo sarà quella si ci ubriacheremo saluti da Luca D'Arialdringaldi Francesco Antercacciatore ciao ciao Teresa salutiamo comunque è stata anche la settimana di Corbyn perché Baron Corbyn va per il titolo universale mentre Jeremy molto probabilmente perderà la leadership del partito laborista ciao ciao ciao